baby gang in piazza redi continuano bravate e crimini celebrazioni di san terenzio domani la diretta su rossini tv nuovo sindaco accoglie al metauro e sfida briganti curina a montecchio scoperto un bunker della seconda guerra mondiale buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv che come ogni sera ci seguite in occasione di questo nostro format rossini news il nostro telegiornale riguardante le notizie della provincia di peso robino e della regione marche tg di oggi giovedì 23 settembre che apriamo con la sanità e con il punto sul nostro territorio per quelli che riguarda contagi e vaccini si conclude infatti domani una settimana di sostenuto rialzo di afflusso nei centri vaccinali una ripresa delle inoculazioni sospinte dall'avvicinarsi dell'obbligo di green pass in ambito lavorativo previsto per il 15 ottobre anche domani nel giorno del patrono di pesaro san terenzio è previsto un abbondante numero di prenotazioni all'ex ristò quasi tutte di prime dosi idem al lab vaccinale di valle foglia alla casa della salute di montecchio si è infatti segnalato ieri un nuovo primato per il territorio con 226 vaccinazioni in un solo giorno case della salute in cui continueranno le inoculazioni ogni mercoledì fino al 13 ottobre dopodiché il centro di vaccini di montecchio verrà chiuso quella di oggi è stata anche una giornata di calo di contagi nelle marche con 87 nuovi casi ma con la cifra più consistente ovvero 41 contagi appartenente alla provincia di pesaro orbino rispetto a ieri però la percentuale di tamponi positivi si abbassa dal 6 al 5,2 per cento stabile il dato sui ricoveri con 80 pazienti in degenza nelle strutture ospedaliere marchigiane di cui 21 in terapia intensiva ed ora la cronaca un tredicenne già noto alle forze dell'ordine ha ingannato la polizia di pesaro con una finta chiamata d'emergenza per una rapina a un supermercato per poi postare sui social un suo furto vero e proprio effettuato in un vicino tabaccaio si tratta dell'ennesimo episodio riconducibile alla ribattezzata baby gang di piazzaredi che da quasi un anno ha acceso un riflettore preoccupante su una tematica sociale oltre che di sicurezza quando va bene sono bravate quando va meno bene sono vandalismi quando va proprio male sono reati penali continuano a ripetersi con regolarità settimanale gli episodi attenzionati dalla questura di pesaro sulle cosiddette baby gang che gravitano attorno a piazzaredi al parco scarpellini e al quartiere di montegranaro l'ultimo episodio rappresenta l'ennesima recidiva per un ragazzino di appena 13 anni tristemente emerso agli onori della cronaca degli ultimi giorni ieri mattina infatti è arrivata una chiamata al 113 per segnalare una rapina al conad di via salvatori arrivati sul posto non c'è stata alcuna traccia di assalto al supermercato ma in compenso è stato intravisto un ragazzino che filmava tutta la scena dell'arrivo della volante quel ragazzino è stato subito riconosciuto è lo stesso tredicenne che giorni prima è stato trovato in un albergo del lungomare con un 17enne e un 19enne in compagnia di una pistola giocattoli e diversi grammi di marijuana lo stesso tredicenne poche ore dopo minaccerà i genitori col coltello per poi essere ricoverato in pediatria reparto dell'ospedale fanese dal quale è fuggito per poi non perdere tempo nel cimentarsi nell'ennesimo illecito colpo di teatro ingannare gli agenti con una finta chiamata e nel frattempo postare sui social un furto questa volta vero commesso ai danni del distributore di sigarette nel tabacchi di via flaminia preso a calci assieme ad un compare riconosciuto dalla video sorveglianza ma non imputabile in quanto nemmeno 14enne pugno molto più duro per i compagni di bravate di 19 17 anni rispettivamente finiti in carcere e agli arresti domiciliari pochi giorni prima insomma un problema di sicurezza e un'allarmante criticità giovanile che in questo quartiere di pesero dura da un anno e che lo scorso maggio portò la questura al provvedimento senza precedenti sul territorio del daspo urbano vietando a sei giovani l'accesso alle zone di piazzaredi ed intorni e si è conclusa con quasi mille firme raccolte la petizione organizzata dal segretario di commercio di pesero davide ipaso per far recedere l'autorità portuale dal provvedimento che la scorsa settimana ha preannunciato la rimozione del chiosco piada marina per una questione di irregolarità in merito alla concessione edilizia sul territorio demagnale del porto di pesero raccolta firme partita dal mattino fino ad una serata dedicata alla causa con tante persone pesaresi e non che hanno solidarizzato con l'attività del titolare e dei dipendenti di piada marina ed ora ci occupiamo di scuola che si interseca all'avvio del mondo nel lavoro e che si mescola alla pregettazione di una città di pesero che verrà e questo il risultato finanziato dai cosiddetti progetti pinqua che portano a un protocollo d'intesa fra comune istituto bravante genca e collegio dei geometri è un protocollo tra il comune di pesero il collegio dei geometri e il bravante genca quindi diciamo tra un'amministrazione pubblica un istituto scolastico è un diciamo è un ordine che tiene insieme le professionalità del territorio per lavorare assieme a quello che è una grande sfida ovvero i piani di riservazione urbana recentemente approvati finanziati dal governo grazie anche qui a una spinta iniziale una collaborazione iniziale già avviata grazie anche al lavoro dell'architetto amadio del comune di pesero con il bravante genca quindi c'era già stato un confronto con gli studenti su alcune tematiche macro dei progetti che abbiamo presentato che riepilogo sono l'asse del centro storico via mazza di castelfilardo il san benedetto e anche tutto il progetto che riguarda i borghi e le colline chiaramente è una bella sfida per noi sia il coinvolgimento degli studenti su quello che sarà un po la città del futuro è una partnership con il collegio dei geometri perché saranno poi anche i professionisti investiti direttamente nella sfida perché ricordiamo che i tre progetti pinqua sviluppati genereranno complessivamente oltre 20 cosiddetti cup cioè singole unità di intervento per cui dovremo fare poi delle gare degli affidamenti anche in termini abbastanza rapidi per sviluppare la progettazione perché poi diciamo la fase della progettazione dovrà terminare per la prima e la prossima e poi iniziare verosimilmente le gare ai lavori un'iniziativa che non nasce quest'anno ma è stata diciamo sviluppata progettata da chi mi ha preceduto la professoressa gennari che è qui con me e che credo sia giusto e doveroso che presenti l'iniziativa comunque da parte mia ci sarà tutta la buona volontà tutto l'impegno per portare avanti queste attività durante quest'anno questo protocollo appunto io l'ho voluto fortissimamente perché perché da tempo noi collaboriamo con gli enti e quindi era giusto diciamo codificare questa nostra collaborazione che ritengo sia estremamente importante per i ragazzi dicevo importante per tanti aspetti innanzitutto perché appunto i ragazzi vengono a contatto con professionisti mettono in pratica quello che studiano sui libri di scuola quindi diciamo questa loro esperienza nel mondo del lavoro è fondamentale perché li motiva capiscono perché diciamo magari ecco sono tenuti a fare determinati determinati studi eccetera e poi appunto perché sono anche gratificati perché vedere poi talvolta che il loro magari piccolo contributo o grande contributo ha dato la possibilità o di ecco come in questo caso per il progetto Pinqua anche di attingere poi a dei fondi molto importanti oppure diciamo vedere realizzare il progetto come il giardino della scuola dell'infanzia appunto della Pirandello è un'opportunità per i ragazzi, per i ragazzi, per gli studenti che sicuramente riusciranno ad applicare le loro conoscenze scolastiche e didattiche in collaborazione sia con i docenti ma soprattutto con i libero professionisti quindi il lavoro che potranno svolgere a favore del comune potranno rilevare, potranno prendere misurazione sugli immobili e sui terreni dove il comune di Pesaro ha le proprie iniziative e questo per il progetto Pinqua è sicuramente, uso un termine, manovalanza ma che serve soprattutto per il comune e serve anche per fare esperienze ai ragazzi e domani venerdì 24 settembre come di consueto la città di Pesaro celebra il suo patrono San Terenzio sono previste messe nel Duomo Cittadino al mattino alle ore 8, 9, 10 e un quarto e 11 e 30 per concludere la giornata di celebrazione nel tardo pomeriggio a partire dalle 18 con la solenne celebrazione equeristica preseduta da Monsignor Piero Coccia i fedeli potranno assistere alla funzione anche in diretta su Rossini TV a partire dalle ore 18 mentre i posti disponibili in Duomo saranno contingentati saranno però previsti posti a sedere anche sul sagrato della cattedrale per seguire in diretta la liturgia tramite dei maxi schermi e continuiamo la nostra marcia d'avvicinamento alle elezioni amministrative del prossimo 3 e 4 ottobre che chiameranno alle urne i cittadini di 7 comuni della nostra provincia di Peso Urbino convocati a eleggere altrettanti sindaci negli ultimi due giorni ci siamo concentrati su quelle che sono le elezioni nel comune di Fossombrone oggi approfondiamo la campagna elettorale di Coglio al Metauro che presenta due candidati a sindaco Pietro Briganti e Candio Curina ascoltiamoli in questo approfondimento a 4 anni dalla nascita di Coglio al Metauro creata dall'unione comunale tra Saltara, Serrungherina e Montemaggiore al Metauro è di nuovo tempo di elezioni candidati alla poltrona di sindaco Candio Curina e Pietro Briganti quest'ultimo è assessore a fine mandato e ora intende proseguire il lavoro iniziato in questi primi 4 anni attraverso la candidatura della lista Insieme per Crescere in pratica in questi 4 anni abbiamo costruito mattone su mattone un comune che non c'era e abbiamo gettato le fondamenta su cui ora noi possiamo farlo crescere e farlo sviluppare infatti la nostra compagine si chiama appunto Insieme per Crescere per dare valore a Coglio al Metauro al primo posto c'è proprio la ricerca di un'identità comune cercare di far sì che si sviluppi il più possibile all'interno dei cittadini questo senso di appartenenza che è venuto meno anche a causa delle vicende di questa fusione diciamo è venuto un po' a freddo senza preparazione ci sono tutta una serie di progetti di idee per sviluppare il nostro territorio e sicuramente quella che più ci sta a cuore è quella che vede lo sviluppo di una mobilità sostenibile quindi un nuovo forma di educazione a utilizzare quelli che possono essere dei percorsi ciclopedonabili o marciapiedi per dare una sensibilità nuova ai cittadini e quindi grandi interventi, grandi investimenti abbiamo iniziato a realizzarli realizzeremo per questa forma di mobilità sostenibile a fianco della mobilità sostenibile sicuramente abbiamo dimostrato in questi 4 anni di dedicare tantissima attenzione, tantissimo interesse, tantissimi investimenti alla scuola alla sicurezza dei nostri ragazzi nelle scuole abbiamo realizzato le indagini di vulnerabilità sismica su tutti i plessi scolastici del nostro comune e abbiamo dato incarichi per il loro adeguamento quindi per la realizzazione di progetti esecutivi per il loro adeguamento sismico e per la loro riqualificazione energetica quindi investiremo tantissimo anche nel mondo dello sport attraverso la realizzazione di infrastrutture ma anche attraverso dei luoghi dove i nostri ragazzi possono incontrarsi che possono formare dei momenti di aggregazione come possono essere una biblioteca multimediale che abbiamo già identificato dove si possa realizzare e un altro aspetto importante è sicuramente la sensibilità che abbiamo nei confronti della pulizia e del decoro cittadino per quanto riguarda la salute anche se questa non è di competenza del comune ma di competenza della regione ci siamo battuti in questi anni siamo riusciti ad ottenere la realizzazione di un distretto sanitario nel nostro territorio quindi quella che noi chiamiamo oggi la casa della salute e cercheremo ulteriormente di potenziare questa struttura cercando di fornire tutti quelli che sono i servizi di base per la collettività Energia in Comune invece il nome della lista con cui Candio Curina nelle elezioni del 3-4 ottobre sfiderà la candidatura di Pietro Briganti Il termine Energia in Comune ha due significati il primo è l'energia dei tanti giovani che compongono la mia lista la seconda è che questa carica di energia possa essere portata in comune affinché ci sia finalmente la partenza di questo nuovo comune che per questi primi 4 anni è stentato parecchio nelle iniziative e nei lavori da attuare Io dovrei essere un po' l'allenatore o il coordinatore di questa squadra perché ho esperienze amministrative essendo stato qualche anno fa, diversi anni fa prima assessore e poi presidente della comunità montana della zona E che adesso non c'è più e poi per 10 anni prima della pensione sono stato dirigente nell'istituto comprensivo di Montefelsino un'esperienza bellissima in cui anche lì ho avviato dei progetti molto importanti soprattutto dal punto di vista sociale queste mie idee a volte un po' avveniristiche vorrei riproporne alcune anche nell'ambito comunale perché ritengo che si debbano proporre nuove idee e nella mia squadra ci sono tante persone che di idee ne hanno tante quindi io dovrò un po' coordinare queste idee e renderle attuabili noi siamo fortemente contrari alla riattivazione della ferrovia commerciale vogliamo che nel sedime della ferrovia venga realizzata la ciclovia come era il primo progetto approvato dalla regione per quello che riguarda le opere pubbliche dobbiamo completare con urgenza una scuola elementare a tempo pieno che sta bloccando un po' tutte le attività correlate a questo del nostro comune sia a livello di servizi che anche di funzionalità perché praticamente viene bloccata anche la nuova sede dell'amministrazione comunale inoltre pensiamo di costruire una piscina e di potenziare le scuole sia con la realizzazione di una sezione primavera che dovremo avviare anche la realizzazione di alcune sezioni staccate se non proprio istituti delle scuole superiori perché le dimensioni del nostro comune oggi sono talmente importanti che possono permettere anche queste richieste e da Coglie al Metauro ci spostiamo ora a Vallefoglia alla scoperta di un bunker tedesco risalente alla seconda guerra mondiale scoperto nei giorni scorsi nel monte di Montecchio vediamo a tal proposito il servizio di Edoardo Razzi domani pomeriggio 24 settembre nella zona del monte di Montecchio verrà effettuato un sopralluogo da un team di speleologi nel punto in cui è stato ritrovato nei giorni scorsi un bunker tedesco risalente alla seconda guerra mondiale una scoperta notevole collocata in quella che fu la linea gotica e che fa riemergere una fetta importante della storicità di questo territorio è una storia antica insomma di questi bunker che non erano mai stati rintracciati però a Montecchio dove i tedeschi hanno diciamo ucciso tante tante persone nella storia che si racconta è che uno di Montecchio poi uccise questo tedesco che con la mitragliatrice da uno dei bunker non si sa, lo va accertato se era quello da altri bunker che avevano contribuito a fare questa strage di circa centinaia di morti lì al cimitero degli inglesi e dei canadesi al Montecchio insomma un ritrovamento che è stato portato a termine dalla curiosità di un fotografo della zona Bruno Olivi ed Antonella Terenzi presidente dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci della sezione di Montelabate erano andati a verificare dove c'era per la verità ogni tanto anche una specie di calo dell'asfalto nella strada comunale perché proprio sotto la strada comunale che va su al monte di Montecchio e c'era un po' di curiosità anche degli uffici nostri insomma ma soprattutto ecco dell'Antonella Terenzi e del fotografo che si sono curiositi sono andati a vedere hanno visto che c'era questa specie di ripostiglio di nascondiglio tutto coperto da rovi adesso si tratta di vedere di fare delle cose che servono per riportarlo alle origini insomma e capire esattamente la dimensione anche della struttura provincia di Pesaro e Urbino in lutto per la scomparsa di Graziella Bertuccioli funzionaria della provincia impegnata da anni sul versante delle pari opportunità e in tutte le azioni promosse per il contrasto alle violenze di genere nel 2008 la Bertuccioli aveva contribuito alla creazione della rete antiviolenza provinciale e nel 2009 aveva vissuto passo passo la nascita del centro antiviolenza parla con noi e nella giornata di ieri si è registrato un altro lutto per il territorio è infatti venuto a mancare anche Paolo Bruscoli stimato e conosciuto medico ortopedico della città in occasione della settimana europea della mobilità domani venerdì 24 settembre dalle 10 a mezzogiorno in piazza del popolo sono previste esercitazioni di guida sicura in monopattino a cura di Bird l'azienda leader nel settore che nell'occasione regalerà anche gadget e caschetti a chi parteciperà a questa mattinata sempre domani 24 settembre la Lega Navale di Pesaro organizza l'ormai tradizionale regata del patrono giunta alla 31esima edizione a partire dalle 11 verrà data la partenza dal porto di Pesaro in una competizione che costeggerà il litorale fino a Fosso Seiore l'appuntamento arriva tra l'altro a pochi giorni dalle elezioni interne alla Lega che hanno riconfermato all'unanimità Antonio Rossini come presidente e si è concluso il viaggio del sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci che ha raggiunto in bicicletta la città tedesca di Far Kirken un simbolico viaggio della memoria per ricordare il percorso che intraprese l'ufficiale cattolico Eric Eder che nel 1944 a soli 21 anni decise di non deportare intere famiglie di ebrei che si nascondevano nel santuario francescano del Beato Santi di Monbaroccio protette dai frati nel viaggio della memoria il sindaco di Monbaroccio Petrucci ha portato con sé nella città tedesca la pergamena di Garivo ovvero la cosiddetta foresta dei giusti che ha consegnato ai discendenti di Eder oltre ad una reliquia del Beato Sante Brancorsini ed è pronto ad arrivare anche in provincia di Pesero e Urbino il progetto regionale denominato dalla vigna alla tavola si tratta di 16 incontri in programma da ottobre a dicembre per un viaggio alla scoperta dell'enogastronomia marchigiana grazie ad una particolare sinergia tra produttori e ristoratori vediamo il servizio di Simone Celli 16 incontri all'insegna del gusto sono quelli in programma nella provincia di Pesero Urbino dal 20 ottobre al primo dicembre nell'ambito di un'iniziativa che vede in prima fila l'associazione Ristoritalia e che a sua volta è parte integrante di un progetto più ampio finanziato dall'assessorato all'agricoltura della regione Marche nome in codice dalla vigna alla tavola con l'obiettivo di far fare un ulteriore balzo in avanti alla promozione dei prodotti enogastronomici del territorio 23 le cantine marchigiane coinvolte 18 invece i produttori di tipicità tutti insieme spalla a spalla in un viaggio alla scoperta dei sapori più genuini in compagnia di chef sommelier produttori e vignaioli in tempi purtroppo non favorevolissimi quelli del covid non ci siamo abbattuti completamente nonostante le difficoltà abbiamo cercato di capire quali potessero essere poi le pratiche da sviluppare i progetti nel momento in cui saremmo poi riusciti a uscirne e quindi questo è uno dei progetti importante abbiamo avuto modo di lavorare a 6-8 mani con dirigenti della regione Marche che ci hanno dato piena disponibilità subito e favore assieme soprattutto all'assessore vicepresidente Carloni abbiamo sviluppato questa diciamo volontà di riportare subito in auge la forza del territorio quindi dalla vigna alla tavola e questo collegamento tra produttori e gli utilizzatori che siamo noi ristoratori baristi piuttosto che albergatori che devono dimostrare ai clienti di conoscere il proprio territorio di conoscere i prodotti e portare fuori in maniera importante quello che è lo storytelling del territorio perché poi abbiamo delle perle straordinarie ma spesso non riusciamo a raccontarle tutti i 16 locali che hanno aderito a questa manifestazione dove si svolgeranno oltre all'incontro con il territorio con la cucina e con i vini del territorio ci sarà anche sicuramente la presenza di sommelier che spiegheranno eventualmente quali sono le case vinicole cosa producono cosa fanno anche per dare informazione un pochettino alla platea che verrà nei nostri ristoranti e che verrà a vedere eventualmente cosa si può proporre con i prodotti del territorio e con i vini del territorio Fano Pesaro Cartoceto Novilara e Acqualagna è qui che avverrà l'incontro tra aziende viti vinicole e ristoratori della provincia al cuore di tutto ancora una volta vi è la voglia di dare un ulteriore impulso al turismo per rilanciare e rafforzare il brand market anche attraverso la destagionalizzazione e la proposta di nuove esperienze questo è l'obiettivo penso primario cioè di non lavorare solo concentrare il lavoro solo durante l'estate che chiaramente è un lavoro per noi importante però allungare diciamo questo periodo magari fino a dicembre che poi incominciano tutte le feste natalizie è chiaro per dare continuità al nostro lavoro che in questo periodo sicuramente ha subito dei forti danni è il primo passo di una lunga serie che vorremmo fare e devo dire che questa esperienza dove abbiamo avuto il doppio delle richieste rispetto al budget stabilito e abbiamo potuto finanziare grazie a un impegno della giunta che ha raddoppiato il budget 21 progetti in tutte le marche che hanno dato vita a 341 serate di promozione dei vini marchigiani delle cantine marchigiane con una forte connessione tra gli imprenditori agricoli e i ristoranti in passato molto spesso i ristoranti marchigiani sono stati a volte gli unici a non promuovere le cantine e viceversa i cantinieri i produttori non si fidavano dei ristoranti perché consideravano il vino marchigiano di basso livello e invece noi abbiamo dei vini di grandissima qualità che dobbiamo orgogliosamente rivendicare spiegare ai clienti ai turisti e venderli meglio e quindi questo progetto mette insieme questi due ingredienti e fa sì che nei ristoranti si parli delle marche non di altre regioni vorremmo non solo continuare su questa strada ma rilanciare il tema dell'enoturismo che nelle marche ha una grande possibilità potrebbe diventare un traino della nostra economia e abbiamo presentato a questo proposito una legge che verrà approvata dal consiglio prossimamente proprio sull'enoturismo e crediamo che portare i turisti a fare un'esperienza attraverso le cantine sarà il futuro del turismo marchigiano un asilo dove essere sicuri luoghi di assistenza pesero fra il XVII e il XX secolo è questo il titolo della celebrazione pesarese dell'appuntamento annuale con le giornate europee del patrimonio che si terrà sabato 25 settembre attraverso una ricerca dell'archivio di stato di pesaro codiuvata da biblioteca oliveriana archivio diocesano e archivio privato stroppanoboli si andrà infatti alla riscoperta di questa tematica specifica di quattro secoli di storia pesarese lo si farà attraverso una passeggiata per quelle vie della città che rappresentano questa storia quest'anno il tema che è stato proposto a livello europeo è patrimonio tutti inclusi e quindi noi abbiamo pensato di realizzare come gli altri anni in collaborazione con l'associazione Etra entra nell'arte un walkscape per le vie cittadine basato sui documenti del nostro archivio di stato e coinvolgendo altri istituti di cultura della città come la biblioteca Oliveriana di Pesaro come l'archivio storico diocesano e anche l'archivio privato di Gabriele Stroppanobili l'obiettivo è appunto quello di coinvolgere la popolazione chi vorrà partecipare a questo walkscape che si concluderà poi in archivio di stato in un percorso culturale alla scoperta dei luoghi di assistenza a Pesaro tra XVII e XX secolo l'abbiamo ricollegato al tema dell'inclusione perché appunto abbiamo pensato che a livello locale un'importante iniziativa per includere fasce sociali altrimenti destinate insomma a soffrire in passato era stato svolto appunto da questi istituti assistenziali con tutti i loro limiti che poi verranno illustrati la ricerca è stata fatta da me e da Arianna Zaffini la nostra collaboratrice archivista e appunto dagli altri istituti che hanno collaborato con noi il workscape si conclude con la visita alla mostra dei documenti in archivio di Stato il workscape inizia alle 5 del pomeriggio di sabato e si conclude con appunto l'arrivo dopo la diciamo dopo la passeggiata per le vie del centro alla ricerca dei luoghi storici si conclude con l'arrivo in archivio di Stato contemporaneamente sabato 25 settembre anche la sezione di archivio di Stato di Urbino è aperta al pubblico con la possibilità di visitare i depositi e alcuni documenti che narrano del liceo Raffaello di Urbino e della sua storia in particolare nel delicato passaggio tra istituto religioso e liceo pubblico statale quindi intorno agli anni dell'unità d'Italia Ed ora una notizia di sport ed in particolare di motori il giovane motociclista pesarese Matteo Morri che corre con il logo di Rossini TV sulla carena ha vinto il campionato MES Motoestate categoria Super Mono sul circuito di Cremona il pilota classe 2004 ha vinto il duello testa a testa con Daniele Scagnetti con il quale era diviso da un solo punto in classifica generale dopo una gara molto combattuta a spuntarle è stato proprio Morri che con il successo in questione si è laureato campione della categoria e con questa notizia di motore si conclude qui questa nostra edizione di Rossini News prima di salutarci però vi ricordiamo qualche appuntamento a cominciare dalla nostra prima serata dedicata al mondo dell'imprenditoria e in particolare alla inaugurazione tenutasi questo weekend di Tomassi Galanti Cucine a Pesaro non perdetevi questo interessante approfondimento questa sera alle 21.20 e domani come di consueto come tutti i giorni dal lunedì al sabato non perdetevi l'appuntamento con Buongiorno Rossini la nostra seguitissima rassegna stampa con i quotidiani locali della provincia di Peso Rubino l'appuntamento è alle 7.20 in diretta ma per chi si dovesse perdere alla diretta ci sono naturalmente le repliche che vedete alle 8.15 alle 11.20 alle 12.30 alle 14 e alle 18 domani 24 settembre è il giorno del patrono San Terenzo ci sarà la rassegna Buongiorno Rossini non ci sarà però per l'occasione Rossini News ma in serata vi terremo comunque compagnia con la diretta tv della solennità di San Terenzo la concelebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Piero Coccia in diretta dal Duomo di Pesaro a partire dalle 18 ed è davvero tutto per questa nostra edizione di Rossini News da parte mia e di tutta la redazione di Rossini TV vi auguro il più cordiale saluto e una buona continuazione di serata con i nostri programmi